Quattro istituti superiori impegnati nel progetto ideato dall'università inerente al movimento e all'analisi antropometrica nella popolazione giovanile. Abbiamo incontrato il presidente del CUS, Nicola Giordanelli. Il CUS Asseri è sempre sulla breccia perché il CUS Asseri chiaramente è l'ente che per istituzione fa svolgere a tutti quanti gli studenti universitari l'attività sportiva. Dall'inizio della mia presidenza avevo sempre in mente la costituzione di un centro studi, il centro studi che deve essere il fiore all'occhiello, la parte scientifica chiaramente che opera in sinergia con l'università per portare avanti progettualità con i dipartimenti dell'università. Devo dire che i nostri eventi Erasmus che quest'anno sono diventati due, uno nel mese di marzo, uno nel mese di ottobre durante la settimana della Welcome Week porta tantissimi studenti delle varie nazionalità incoming a Sasseri a svolgere nei nostri impianti una giornata di sport e socializzazione. Da questo ci rendiamo conto comunque che gli studenti stranieri sono molto disposti all'attività sportiva sicuramente perché già dalla scuola gli viene inculcata la cultura sportiva e quindi loro la portano avanti anche quando hanno meno tempo durante il periodo dell'università. E' imprescindibile che lo sport non deva diventare cultura e dal momento in cui uno già da ragazzo ha la cultura dello sport sicuramente la curerà e la porterà avanti per il resto degli anni fino a quando diventerà adulto nella vita insomma.